benvenuti in un nuovo video io sono tristissima perché questo è l'ultimo video programmato dei video a saggio siamo giunti al termine sarebbe il nono iniziare subito col dolce ma con questa volta con qualcosa di particolare di dolce non è un cibo è una non è un cibo ma è una bevanda eccola qui tema halloween tema harry potter sarebbe in parole povere la burro birra senza alcol senza alcol c'è il pecco è un qualcosa di incantevolmente bellissimo ok consideriamo il topo ma io sentivo doveva liggia può passare burro è vero non molto non molto ora sento un sacco è troppo dolce no ce la faccio proprio no cos'è mi piace cosa schifo è troppo dolce è tipo di bere un profumo è troppo profumata questo è troppo dolce no non mi piace proprio no non è male però poi disgusta si sente un sacco la vaniglia troppo 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 zuccherata buona idea ora mi piace veramente è pesante me l'aspettavo dolce sembra la colina profumata no 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 si sente quella mena gassata però mi ha visto dolce no troppo dolce troppo vaniglia stucchevole mamma facciamo dolce ma io mi aspettavo tutt'altro pure io tipo la birra che teneva quel sapore un po' io me l'aspettavo dolce ma non non ok la prendiamo il dolce eh per forza per forza è un dolce enorme non l'avete mai visto un dolce più grande di questo siete pronti? siete pronti? da da Kit Kat Peanut Butter l'odore è burrata l'odore si l'esiste sembra l'odore si prende questo alla fine mmm mmm è good con tutti questi cussi non è sbagliato un po' no 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 adesso siamo alla fine l'abbiamo provato tutti possiamo fare una cassilla vai poi ti dico la mia primo posto quello là con il popocorno ok poi secondo posto questo ok terzo caramello salato ok e quarto quello là con i biscotti ok l'ultimo posto ah l'ultimo posto l'ultimo posto invece la mia primo posto popocorn e caramello che ha lo stesso gusto che era spettacolare secondo posto io vado a metterci i cookie della tavoletta grande ok terzo posto peanut butter quarto caramello e quinto nocciola e poi tutto resta presso ok si ora adesso abbiamo tre snack salati per la tua gioia e poi abbiamo un'altra e poi abbiamo un'altra levanda quindi direi di fare abbiamo provato sour cream che è stato wow che vi consigliamo tantissimo e e trucco gusto paprika questo qua ma chissà di questi possiamo fare anche la classifica cosa penso sia inutile anche fatela ho paura che saperemo un po' di pomerone infatti si già è buona il mio pesciolo però è molto pieno come aroma infatti si è buono no pensavo meglio è buono però anche se pure bucci un po' no? però perché non si sente pure il gusto di peperone non si sente per niente no no paprika paprika è buono però sinceramente sour cream è buono 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 se dovessi fare una classifica io sour cream bacon paprika mh pucco 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 è nulla io spero che questo video ahahahah scherzando a proposito di Cheetos sour cream abbiamo questo formato proprio maxi enorme cioè tipo nuggets la zampetta e le forbici eccole qua sour cream non stanno i classi ok guardate sei stupato cioè ma riduci la confezione no ragazzi guardate qua e chi va da rosso? ah non ci sta che noccia no finora 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 non c'è cosa buona no no ma forse è il formaggio 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 il saluto gusto ma non è il sour cream accentuato no o il yogurt lo sento di meno questo sapore mi sembra yogurt se no non lo so però sento di meno che sono riuscito un po male ma buono che stiamo mangiando a tre ore guardate cracash suppongo di sì eccolo qui ma come sarà mi sembra buono è rossa mmm quelle caramelle specchio d'arancia molto dolce questa è ancora più fredda arancia però si sente che il salaro malin questa è buona questa è ancora più fredda bellotto si non supera quella quella di lime quella del settimo video era buonissima l'ultimo salato anche questo non ci piacerà parmesan quindi aglio parmigiano parmigiano e aglio parmigiano e aglio rossido rossido ringles bello il colore parmigiano ma non il sapore vado con cosa parima poi tutto bello eh non so che mi ricordo non ti ricordi quando avevo un malasillo i bassoncini del termosso quando aprivi i bassi oddio è vero tutti è mollati windows oddio hai ragione mi ha fatto ricorda proviamo no 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 però quando tocca quando ti arriva la roma e tocchi la roma è ancora più comunque mai più aglio ti prego Mamma mi sto sentendo male beviamo un po' no 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 basta tra poco poco quando ho toccato no quando allora all'inizio che non si sente la roma quindi ci va bene io così quando massichi e tocchi quella polvetina mamma mia oddio sono sempre Anastasia sono sempre questi personali però no mi lasciavo un po' la mano in bocca questa cosa allora che hanno un video quasi sotto Natale cioè ci siamo un sussurato ci siamo un sussurato Natale vabbè va bene così almeno state attenti voi no noi siamo le cavie come sempre e quindi nulla speriamo che anche l'ultimo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ciao